Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Di episodi che parlano di come iniziare a correre su trail in realtà ne ho già fatti un bel po' in passato. Mi viene in mente, che ne so, una puntata dove parlavo delle domande più frequenti di chi inizia col trail, oppure una incentrata proprio sul come iniziare a fare nello specifico del pratico trail running, oppure come allenare la salita abitando in pianura, saranno almeno 6-7-8 episodi di questo tenore, che oltretutto ho raccolto tempo fa in una playlist su Spotify. Ad ogni modo, vi lascio linkati nelle note sia questa playlist appena citata che un po' tutte le altre puntate. Detto ciò, torno nuovamente sul tema, perché ho notato come sia sempre di attualità e come spesso mi vengano chieste delucidazioni in merito, quindi evidentemente non sono stato abbastanza esaustivo. L'ultima a cui mi aggancio proprio per il tema di oggi viene dalla mail di Davide che, ringrazio per lo spunto innanzitutto, ve ne leggo uno stralcio. Oltre a farmi in apertura degli inspiegabili complimenti che vi evito, Davide scrive Nel mio planning di quest'anno vorrei dedicarmi più al trail e all'uomento di chilometri obiettivo come gare. Il problema è che non riesco quasi mai ad allenarmi su sterrato e su dislivello. Tra lavoro da libero professionista, moglie e due figli, mi ritaglio mezz'ora al mattino e un'oretta alla sera un paio di volte a settimana più un'oretta alla domenica. Visti gli orari e l'assenza di luce naturale, posso solo correre su strada e non nei boschi o in collina, anche se ce ne sono un sacco e bellissimi dove abito. Che trucchetti, rimedi o idee posso trovare per allenarmi comunque per gare di trail? Queste difficoltà immagino le starai sperimentando anche con alcuni dei tuoi allievi. Credi inolti di non essere l'unico runner amatore a dover affrontare questi piccoli dilemmi. Quali possono essere le soluzioni? Diciamo che di carne messa al fuoco ce n'è parecchia. Ho risposto già in precedenza Davide via mail, ma vorrei approfittarne quest'oggi per dare una nuova risposta, sperando di ampliare il concetto. Che però comunque questa risposta non sia proprio ad personam, ma che comprende appunto più considerazioni valide un po' per tutti quelli che in questo momento si trovano in una situazione perlomeno simile alla sua. Intanto la prima cosa da valutare con onestà è la scelta della gara di trail running che si vorrebbe andare ad affrontare sia in termini di lunghezza che di tecnicità. Molto dipende anche da questa scelta. Dicevo con onestà, voglio sottolineare questa onestà intellettuale, proprio perché bisogna essere consci innanzitutto delle proprie capacità e dei propri limiti. Ha maggior ragione se si ha un numero limitato di uscite e di ore settimanali a disposizione come nel caso di Davide. Il mio consiglio in questo senso è di partire da gare da 10, 15, 20 chilometri al massimo con 400, 500, 600, 700, 800 metri di dislivello o giù di lì. Quelle si possono preparare anche facendo poche poche uscite su sentiero. Discorso uguale per le complessità, le tecnicità da affrontare. Ci sono gare di trail molto difficili ed altre decisamente meno tecniche. Ad esempio ci sono parecchie gare che non sono estremamente montagnose, passatemi il neologismo, che si possono allenare con relativa semplicità. Per esempio un Chianti Ultratrail, tanto decantato ultimamente perché Bayo TMB, che proprio possiede anche un paio di distanze brevi, potrebbe essere una gara adatta allo scopo. Ma davvero ce ne sono ormai così tante di competizioni in giro sparse un po' per tutta l'Italia e non solo in Toscana, che la scelta è veramente ampia. Va da sé che se si opta per una gara con 500 metri di dislivello spalmati su 15, 16, 17 chilometri, molto molto probabilmente non sarà troppo difficile. Comunque sia è bene valutare questo aspetto. Gare sì di trail ma non eccessivamente complesse, dove magari si corre soprattutto su terra battute, strade bianche, queste non necessitano di allenamenti specifici particolari e di conseguenza si possono preparare anche senza fare troppe sedute su sentiero. Al contrario, se si ambisse a cose più lunghe e più tecniche, con tre sessioni settimanali e un monte di ore di allenamenti di conseguenza non eccessivo, potrebbe rendere la gara ancora più difficile e forse viverla non al massimo. Tre allenamenti a settimana e neppure troppo lunghi potrebbero non essere sufficienti per determinate competizioni. Allungare diventerebbe difficile. La mia opinione in questo senso è di non esagerare con l'obiettivo da portare a casa, perché arrivandoci poi non troppo preparati si potrebbe andare incontro ad una lunga lunga agonia rovinando la festa. Dato che non è bello strisciare per 20 erotti chilometri solo per andare a chiudere la gara per portarla a casa. Mi è capitato in qualche occasione, anche se magari l'ho preparato, figuriamoci, e non è il massimo, fidatevi. Non c'è nulla di eroico in questo. Meglio una gara un pelino più corta, ma che si sa di poter correre senza soffrire eccessivamente. Poi certo, la fatica ci sarà lo stesso e anche se si fosse mega preparati il rischio di inconvenienti c'è ugualmente. Ma soprattutto se non avete mai fatto trail running prima d'ora non azzardate cose eccessive, siate onesti con voi stessi. Piccolissimo e breve inciso, non sta scritto da nessuna parte che trail running sia sinonimo di ultra, anzi. E non c'è nulla di male nel correre gare brevi, tra virgolette, che poi è tutto relativo perché comunque anche solo 20 chilometri su trail sono sicuramente più impegnativi di una mezza maratona per dire, ma a prescindere non c'è una distanza più bella o più brutta. E quindi non bisogna cadere nel tranello del fare per forza chissà quali super distanze a tutti i costi. Ci si può benissimo divertire alla grande anche con molti meno chilometri. E vi dirò che ogni tanto è bello farsi una scannellata più corta e intensa. Si può dare il 100% di sé qualsiasi distanza si affronti e si può arrivare belli finiti in ogni caso. Ma torniamo a noi. Fate anche in modo che questa gara non sia dopo domani, ma datevi qualche mesetto di tempo per prepararvi adeguatamente come si deve in modo da arrivarci ben allenati. Insomma, diamo poi per assodata una scelta sensata come obiettivo, così come farà Davide tra parentesi. Oltretutto di come scegliere i propri obiettivi ne ho parlato anche in un episodio di inizio 2024 che vi lascio pure lui in descrizione. Quello che si può fare in situazioni come quella di Davide è di lavorare nel quotidiano con ciò che si ha a disposizione, specialmente in quanto a dislivelli e terreni vicino a casa. Senza inventarsi cose strane non serve a chissà che cosa, ma bisogna massimizzare il tempo a propria disposizione. Ad esempio si possono inserire degli scatti in salita da 10, 15, 20 secondi al termine di un allenamento di corsa lenta, anche se si abita in pianura almeno un cavalcavia o una rampa di parcheggio barra garage la si dovrebbe poter trovare. Oppure inserendo delle uscite collinari, se sono in zona disponibili, che possono essere sia composte da corsa lenta che da fartlek a seconda dei casi, cercando così di mettere in cascino un po' di dislivello anche se corso su asfalto. Se un ulteriore problema fosse la luce naturale, così come accennava Davide stesso, si può anche decidere di investire qualcosa in una lampada frontale che consenta perlomeno di guadagnare qualche minuto quando si corre in inverno, non essendo così per forza costretti a correre nelle ore di luce. Una frontale non costa poi molto ed è di semplicissimo utilizzo. Magari non la si userà spesso, ma può sempre venire comodo nella vita, anche se si corre per strada e non per forza sul sentiero a orari mattinieri o serali. So che per qualcuno, quando si parla di trail, correre nei boschi da soli possa spaventare anche di giorno. E può essere pure peggio farlo al buio con la sola luce della frontale, me ne rendo conto, questo può intimorire. Però al contrario, alla lunga può risultare una bella esperienza, molto particolare se vogliamo. In questo caso vi direi, come sempre, di andare per gradi, quindi partite non la primissima volta con tanti chilometri da soli di notte, meglio piuttosto eventualmente iniziare con qualcosa di collinare su asfalto e pochi chilometri di boschetto e man mano aumentare con il crescere della propria autostima, della fiducia. Comunque non è veramente obbligatorio, come dicevo, se la gara non è troppo tecnica si può fare anche solo un collinare tranquillo con la frontale, così ci si rende visibili e ci si vede senza problemi. Dentro a tutto questo calderone ci metterei anche il concetto di non fissarsi sui giorni, degli allenamenti. La programmazione deve essere flessibile, in modo che vada incontro ad eventuali intoppi ed impegni che possono non consentire la seduta quando era originariamente prevista. Non è un problema se si salta un workout, anche se sono solo tre settimanali, ma lo si potrà recuperare tranquillamente il giorno dopo, per esempio. Un altro aspetto sempre troppo sottovalutato a livello di allenamenti è il potenziamento a secco. Oltre a poter allenare la forza correndo, con appunto degli scatti in salita o altre sessioni simili, sarebbe bene farlo anche a casa o in palestra. Ma per iniziare, se non si è degli abitui della palestra, si può fare tranquillamente tra le proprie mura domestiche. In special modo, io focalizzerei queste sessioni su gambe, glutei e core. I primi due servono soprattutto per la salita, mentre rinforzare il core aiuta la nostra stabilità mentre si corre, migliorando così l'economia di corsa. Roba che viene bene sempre, salita, pianura o discesa che sia, ma comunque su trail aiuta ancora di più se vogliamo. L'idea è quella di massimizzare i momenti liberi, mettiamola così, usandoli per correre, ma anche per altre attività collaterali se il tempo di esposizione fosse meno e troppo poco per uscire e mettere le scarpette, correre e farsi una doccia. Come dico spesso, si possono già ottenere discreti risultati anche con solo 20-30 minuti di potenziamento, soprattutto se non si è mai fatto nulla di questo tipo in precedenza. Poi, se possibile, con un piccolo sforzo o almeno un'uscita su sentiero anche solo ogni due settimane, ci vorrebbe. Quindi due volte al mese. Secondo me, qui si dovrebbe fare qualcosa e dovrebbe anche essere sostenibile a livello di organizzazione ed impegni personali, giusto per non andare completamente sprovvisti di ogni minima esperienza ad affrontare la primissima gara di trail. Qua si dovrebbe provare un po' più di specificità, in primis di terreni e di slivelli, ma anche per testare i materiali tipo zainetto, scarpe o l'alimentazione da usare poi in gara. Sono queste le sedute dove andare a ricercare un minimo appunto di specificità simil competizione obiettivo. A volte non la si ha proprio vicino a casa, ma l'idea è di cercare comunque di riprodurre il più possibile, per quanto si può, le condizioni che poi si andranno ad affrontare, sia in termini di tipologia di terreno che di salite e di scese. Se fosse una gara con una sola salita lunghetta, sarebbe meglio cercare un percorso che abbia al suo interno un'ascesa piuttosto continua. Al contrario, se fosse un tracciato ricco di brevi saliscendi, per quanto possibile, si dovrebbe cercare di allenarsi su sentieri con queste caratteristiche altimetriche. Ovviamente, se col passare del tempo si riuscisse ad aggiungere almeno una quarta sessione di corsa a settimana, anche breve e lenta, sarebbe meglio, ma ce la si può fare in qualche modo anche con tre, a patto di essere consapevoli di questa limitazione, che non consentirà chissà quali volumi settimanali. Per quanto concerne la progressione dei chilometraggi, come ovvio che sia, va gestita con gradualità. Capisco bene che spesso le ore a disposizione per allenarsi siano più o meno quelle, lo dicevamo anche all'inizio, ma per distanze ragionevoli si può anche in qualche modo accontentarsi di sedute di un'oretta circa infrasettimanali, aumentando qualcosa nel weekend, quando presumibilmente si avrà qualche ora in più a disposizione. In questi allenamenti più lunghi si potrebbe e dovrebbe fare qualcosina in più, a passo lento, ma provando a stare più ore sulle gambe, banalmente. Se la gara che si è scelto non è troppo lunga, non richiederà comunque uno sforzo eccessivo nemmeno in fatto di ore di allenamento consecutive. Se non si hanno particolarissime pretese di performance, ma solo la voglia di correrla più che dignitosamente, anche delle corse lunghe da due ore, due ore e mezza al massimo potrebbero bastare. Poi chiaramente questo cambia a seconda della lunghezza e della complessità della gara obiettivo. Per i runner più esperti, anche di corsa su strada e non per forza su trail, si potrebbe seguire una progressione più classica, fatta da tre settimane di aumento progressivo ed una di scarico, quindi con un blocco da quattro settimane. Ma se si fosse maggiormente neofiti, soprattutto in ambito trail, le corse più lunghe potrebbero anche essere alternate una settimana sì e una no, così da non rischiare troppo sovraccarico. Faccio un esempio abbastanza caso, quindi non prendete questi numeri come oro colato, ma per intenderci. Una settimana si fa un'ora e un quarto, quella dopo un lungo da un'oretta e 45, poi un'ora e mezza, quindi scendendo leggermente, ma quella dopo una long run da due ore e quella dopo ancora nuovamente scarico con un'ora e un quarto. Una cosa di questo tipo, proseguendo così sali, scendi, sali, scendi. A livello teorico la corsa più lunga non dovrebbe cubare una percentuale eccessiva sul totale dei chilometri settimanali, perché ci potrebbe essere il rischio di esagerare in quella singola seduta sovraccaricando e rischiando un infortunio. Pertanto questo aumento va gestito con molta attenzione e, se possibile, accrescendo anche solo di pochi minuti le sessioni infrasettimanali. Alla fine, se non si possono aggiungere nuovi giorni, anche se sarebbe bene, e se costretti quindi alle tre sedute settimanali al massimo, anche inserire solo 5-10 minuti di corsa lenta pian pianino agli allenamenti, magari aumentando banalmente il riscaldamento e il defaticamento, può dare piccoli benefici. Aumentando di poco, ma in modo costante ogni settimana, potrebbe consentire qualche chilometro in più portato a casa senza quasi rendersene conto. Solitamente non sono quei pochi minuti extra a cambiare gli impegni giornalieri, in fin dei conti si mette la sveglia 10 minuti prima o si torna a casa 10 minuti più tardi alla sera, ma alla lunga quei 5-10 minuti qua, quei 5-10 minuti là, messi una settimana sì e un'altra pure e un'altra pure ancora, possono aiutare a sostenere maggiori carichi di lavoro. Anche il recupero è estremamente importante, lo si dice spesso ma è una verità. Le giornate off in casi come questi, visto che ci si allena 3 o massimo 4 volte a settimana, ci saranno già di base, ma con il termine recupero non intendo solo il non correre, ma anche il dormire bene, alimentarsi in modo corretto, specialmente dopo gli allenamenti per reintegrare, fare eventualmente del recupero attivo anche banalmente con camminate, bicicletta e così via. Insomma, questa è un po' una mini guida base, base, senza pretese, senza entrare troppo nei particolari e senza alcuna personalizzazione. Ci tengo a sottolineare questo aspetto del non personalizzata perché ci sono mille mila variabili in gioco. A partire dalla già menzionata gara obiettivo, passando per il livello di fitness del singolo atleta, arrivando a quante ore e giornate si ha a disposizione per allenarsi, come ci si alimenta, qual è lo stile di vita e così via. Ad ogni modo mi piaceva provare a dare qualche indicazione di massima, consapevole anche di non aver toccato proprio tutti gli argomenti possibili, specificando però come sia assolutamente possibile correre un trail anche allenandosi senza farne quasi mai, a patto di non pretendere di affrontare chissà quali gare complesse o troppo lunghe e nemmeno di andare a vincerle. Occorre porsi i giusti obiettivi, con consapevolezza dei propri mezzi e tempi per arrivarci, ci vuole pazienza e ci si dovrà organizzare e gestire bene, dosando bene le ore a disposizione per allenarsi, ma insomma si può fare. Ti si può buttare insomma nel fantastico modo della coda sul sentiero e godersela anche con qualche limitazione. Al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Telegram, di scrivermi una mail, tutti i miei recapiti sono nelle note dell'episodio. Lasciate una recensione a 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify, che è un modo gratuito per voi per darmi una mano e condividete queste e tutte le altre puntate che ritenete utili, mandatele ai vostri amici spammate. Ed infine, per darmi una mano anche tangibile e economica, potete fare una donazione, una tanto su PayPal o BuyMeACoffee, oppure andare su Patreon ed entrare anche nel mio gruppo dei miei sostenitori, dei miei patrons, con un sostegno ricorrente mensile. Anche in questo caso tutti i vari link, i modi per aiutarmi sono in descrizione. E direi che per oggi è tutto. Cari runners, il trail running è fattibile per chiunque, basta volerlo con pazienza e con costanza. Ci sentiamo alla prossima puntata!